Al Taruffi di Vallelunga è andato in scena il secondo atto del campionato italiano di velocità a moto 3 in cui Rossini TV è media partner dei piloti del team MR Racing che nell'occasione hanno raccolto meno rispetto al potenziale mostrato dalle prove. Matteo Morri durante il primo turno di qualifiche stacca un buon ottavo tempo ma dopo pochi giri del secondo turno un guasto lo fa slittare undicesimo. In gara 1 parte a fatica e si ritrova a navigare in quattordicesima posizione ma giro dopo giro e sorpasso dopo sorpasso comincia a lottare per l'alta classifica. Termina la gara sesto lottando fino all'ultima curva col quinto classificato. In gara 2 dopo una bella partenza Morri viene toccato da un avversario un contatto che determinerà la sua caduta pochi metri dopo. Matteo Morri sale in moto e si prodiga in una rimonta che dall'ultima posizione lo riporta a tagliare il traguardo al decimo posto. In gara 1 da undicesimo ho finito sesto dopo una bella lotta con altri piloti e invece in gara 2 sono caduto al secondo giro. Stavo rimontando però la mia gara è stata compromessa, sono ripartito e ho chiuso decimo. Abbiamo fiducia per le prossime gare perché il passo per restare davanti con il gruppetto davanti c'è quindi siamo contenti e fiduciosi per le prossime. Giampaolo Di Vittori invece dopo una prima qualifica da undicesimo si migliora nel secondo turno fino ad agguantare un'importante sesta posizione. In gara lotta col gruppo dei migliori intorno alla quinta posizione ma un po' troppa foga lo porta ad un errore di guida che si traduce in una brutta caduta e a ritiro. Al centro medico non riscontrà nessuna conseguenza particolarmente grave se non una forte contusione ad anca, gamba sinistra e collo. Dopo le cure del terapista del team Giampaolo riesce a presentarsi alla partenza di gara 2 in cui di nuovo parte bene e dopo pochi giri si ritrova in quarta posizione. La fatica e i dolori del giorno prima però si fanno sentire costringendo Di Vittori a un lento calo di ritmo. Il dolore alla gamba gli impedisce di cambiare marce correttamente e questo lo porta ad imprecisioni e a scivolare a terra per la seconda volta a pochi giri dal termine. Avevo un buon feeling con la moto, la sentivo molto bene ma la voglia di rimontare ed andare a prendere il gruppo di testa era tanta e quindi sono andato un po' oltre il limite. In gara 2 invece ho lottato per il terzo posto imponendo il ritmo e guidando per dieci giri il gruppo degli inseguitori. La mia squadra in tutto il weekend mi ha dato una moto fantastica solo che ad un certo punto durante la gara per via della caduta del giorno precedente ho iniziato ad accusare un gran dolore alla gamba e questo dolore si è fatto sempre più forte e mi ha portato a commettere un errore. Prossimo appuntamento del campionato italiano Moto3 il 18-19 giugno nel circuito Toscano del Mugello. Prossimo appuntamento del Mugello.